I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri, in base al DMC numero 145 del 203 2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è bonca e la gioia è tanta e poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. bella casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casalotto in tv, ye ye ye! Buongiorno, buona mattina a tutti quanti voi, come sempre un bel ritrovato nel nostro bel salottino di casalotto. 9.50, spero abbiate già fatto colazione e bevuto un buon caffè perché adesso dobbiamo prestare molta attenzione ai primi, primissimi consigli della giornata dei nostri esperti. Restate con noi, ciao Lio, ben ritrovato. Ciao Arianna, ben ritrovata, buona giovedì mattina a te, buona giovedì mattina a tutti coloro che stanno seguendo questa fantastica diretta. è importantissima questa diretta del giovedì mattina perché oggi siamo in piena giornata d'estrazione quindi attenzione ai consigli ovviamente validi per il concorso di quest'oggi, giovedì 16 maggio 2019 e già siamo arrivati alla metà di questo mese di maggio. Attenzione perché ci sono delle condizioni estremamente importanti e tutti voi potete e dovete avere in quanto dalle condizioni tecniche e statistiche io e Marco abbiamo valutato ancora una volta il meglio con pochi numeri proprio per l'estrazione di quest'oggi e allora un saluto va assolutamente anche a Marco ma soprattutto un saluto va all'immenso pubblico di Casalotto perché anche in questo giovedì mattina molte persone stanno osservando la nostra diretta. Allora io non perdo tempo e vado subito in redazione perché so bene che ci sono molte amiche e molti amici che vorranno avere le informazioni proprio per valutarle direttamente quest'oggi e allora seguitemi di là in redazione, grazie. Molto bene signori attenzione perché abbiamo il primo portale, un portale fantastico è l'8934 94 34, ripeto 89 34, 94 34, aggiornamento live. Attenzione questo è l'ultimissimo minuto del giovedì mattina e qua avrete veramente la possibilità di avere il meglio di Casalotto in tre punti fondamentali proprio per il concorso di quest'oggi. è chiaro che voi potrete scegliere l'informazione che desiderate perché questo è un minutario di conseguenza entrando all'8934, 94 34 a 1,50 euro al minuto da rete fissa, 1,80 euro al minuto dai cellulari meno starete in linea più risparmierete perché se vorrete solo i due ambi secchi alla ruota nazionale con il 90, attesissimo il 90 alla ruota nazionale, potete entrare e ascoltare uno o i due ambi secchi chiudere la chiamata già avrete risparmiato. La condizione delle Genova-Napoli, questo simmetrico 29 59 89, questa triangolazione simmetrica attenzione perché conferma il nuovo terno simmetrico, quindi sarà un terno secco di tre numeri estremamente importante e poi attenzione perché è il momento della figura 9 ed allora noi abbiamo l'abbinamento di figura 9 per quanto riguarda il 9,90. Anche questo è un piccolissimo consiglio che troverete in quest'ultimissimo minuto live, giovedì 16 maggio, estrazione di quest'oggi e allora riepilogando 90 ruota unica nazionale, due ambi secchi, il nuovo terno simmetrico e l'abbinamento di figura 9 per il 9,90. In una chiamata avrete il meglio di casalotto ma prima di dare il via alle vostre chiamate magari vediamo il primo colpo dell'estrazione di martedì sera, fantastico, alla ruota dell'otto di Cagliari il 18,72, ambo di figura 9, vi abbiamo consigliato la figura 9, figura 9 è arrivata, la ruota dell'otto di Cagliari ne sono arrivati tantissimi di questi scontrini perché appunto nel dopo estrazione di sabato sera avevamo questo unico terno, solo questo terno e il primo colpo ha favorito il 18,72, veramente fantastico ma ancora nella figura 9, 27,72 centrato alla ruota dell'otto di Napoli dal Napoli-Palermo, lo avevamo un po' in tutte le salse, di conseguenza non sono mancate le vincite martedì sera ma io con Marco, attenzione perché per oggi abbiamo questa importantissima informazione, vediamo Marco per favore la pagina di questo portale perché i due ambi secchi con il 90 alla ruota nazionale sono unici, sono straordinari e potete veramente entrare, ascoltare anche solo questa coppia d'ambi, chiudere la chiamata già avrete risparmiato, terno simmetrico, terno secco, attenzione all'alta frequenza dei simmetrici e soprattutto abbinamento di figura 9 per il 9,90, questo è un abbinamento unico, un abbinamento secco, siamo nel mese della figura 9 e allora il 9,90 vuole questo abbinamento, via con le vostre chiamate 89 34 94 34, tasto 3, entrate, ascoltate ciò che vi interessa chiudete la chiamata e già avrete risparmiato sul costo dell'intera chiamata via con le vostre telefonate Fade away Fade away Fade away Fade away Working from 9 to 5 You know I just nearly died Money what can really buy I just need a coffee break I don't wanna fade away I just need a coffee break I don't wanna be your slave Working from 9 to 5 I just nearly died Money what can really buy I don't wanna die I just need a coffee break I don't wanna fade away I just need a coffee break 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 I don't want to fade away I just need a coffee break I don't want to be your slave Ooh, I don't want to fade away Ooh, I don't want to fade away I just need a coffee break I don't want to fade away I just need a coffee break I don't want to be your slave I just need a coffee break I don't want to fade away I just need a coffee break I don't want to be your slave I just need a coffee break I don't wanna fade away I just need a coffee break I don't wanna be your slave Fade away Fade away Fade away Molto bene, un'informazione dedicata a tutti voi Questo è l'ultimissimo minuto live Vedremo se possiamo ritornare su questo ultimo minuto Perché è importantissimo Ma il contenuto avete sentito Avete visto che ancora una volta è veramente ristretto Due ambi alla nazionale con il 90 Il terno simmetrico E un solo abbinamento per il 9,90 Quindi l'aggiornamento completo Per arrivare preparati all'estrazione di quest'oggi Ancora potete sfruttare questo ottimo portale Arianna Adesso iniziamo a parlare A vedere un po' le nostre notizie Perché la prima notizia Di cui parleremo tra pochissimo Riguarda proprio le azale E poi vi anticipo che parleremo Visto che oggi è giovedì 16 maggio E quindi è nato un famosissimo cantante Soprannominato Agonia Magari avete già capito di chi parleremo E poi parleremo di cinema Come ultima notizia Ma ritorniamo ovviamente alle nostre amate azalee E vediamo un po' Parliamo un po' di questa pianta Le azalee fioriscono con meravigliosi fiori e colori Rosa, rosso, bianco e magenta Sullo sfondo di fitte foglie verde scuro Esistono molte varietà Quindi il periodo di fioritura è vasto Da marzo a ottobre Aspetta rimangono un bel po' fiorite Sono piante molto resistenti E sempre verdi L'ideale sarebbe piantarle in giardino Perché non temono né freddo né caldo Ma si adattano bene anche in vaso E addirittura si possono coltivare All'interno della propria casa Assolutamente sì È chiaro che nel vaso soffrono un attimino Perché una bella azalea in un giardino Ovviamente può avere tutti i nutrienti Più possibili della terra E di conseguenza può diventare veramente meravigliosa È una pianta assolutamente resistente E l'unica accortezza per averla sempre in fiore E sarebbe quella appunto quando il fiore appassisce E levare proprio il fiore appassito Per dare spazio al nuovo fiore Ma se amate avere un giardino sempre fiorito Questo è un fiore assolutamente importante Perché la fioritura delle azalee Poi abbiamo sentito in notizia Che ci sono diversi colori Per quanto riguarda le azalee È veramente lunga Perché va proprio da questo periodo Fino a settembre-ottobre E di conseguenza è una pianta tossa Eh sì, per chi vuole una pianta Che non soffre il caldo Non soffre il freddo Quindi adatta ad ogni stagione E poi è un sempreverde Quindi è molto importante Tra l'altro la mia preferita È proprio quella del colore Che abbiamo visto nell'immagine Quella rosa acceso Stupendo, stupendo Poi quest'anno si è comprato Tutti i fiori del vari fioriere rosa Assolutamente sì È un bel rosa intenso È un bel colore forte Alle volte sembra quasi finto È vero Il fiore dall'intensità di colore che ha Comunque assolutamente È una pianta straordinaria Quindi se dovete arricchire il vostro giardino Con dei fiori che possono durare Per diversi mesi Beh questa assolutamente È un'idea importante Per quanto riguarda appunto Una nuova pianta Un nuovo fiore È vero, è vero Tra poco faremo tanti tanti auguri A un personaggio È un cantante Nato nel 1951 Proprio il 16 maggio Quindi un giorno come oggi Soprannominato Agonia Chi sarà? Lo scopriremo tra pochissimo Perché adesso invece Ritorniamo O magari diamo un anteprima qua Comunque ritorniamo in redazione Per risentire Assolutamente sì Facciamo una bella cosa Visto che Tra la giornata di ieri Ancora tra martedì sera Dopo l'estrazione Tantissime amiche Hanno mandato La foto Dello scontrino Vincente Di questo bellissimo 1872 Alla ruota Dell'8 di Cagliari E del 2772 Noi ovviamente Andiamo a vedere Appunto Questi scontrini Queste foto Degli scontrini Perché Il 1872 È un fantastico Ambo Di figura nove Al primo colpo di gioco Attenzione signori Perché proprio sabato sera Nel dopo estrazione Io personalmente Avevo registrato Nel portale Questo unico terno 1872 81 Cagliari Napoli Questo è un primo colpo Favoloso È un altro primo colpo Straordinario Perché È arrivato In ambo Nei tre numeri Ma avevate solo Questo terno secco E la condizione Era proprio Il quadrato perfetto Di Cagliari E Napoli E attenzione Perché qua veramente Centinaia e centinaia di persone Hanno vinto Questo ambo Anche se È un ambo Assolutamente È un ambo a ruota È chiaro che non vi ha cambiato la vita Ma assolutamente Vi ha dato modo Appunto Di poter centrare Molto bene L'ambo a ruota E di conseguenza È un altro risultato importante Di figura nove 2772 Altro ambo Siamo però Alla ruota Dell'otto di Napoli Questo 2772 Lo avevamo un po' In tutti i modi Perché questo Vedete Era con il nove 2772 2772 È un vertibile Di figura nove Di distanza 45 E proprio Il Napoli-Palermo Voleva questo 2772 Quindi Per Napoli Ma anche Per tutte le ruote Quindi questi sono Dei risultati Importantissimi Per quanto riguarda La figura nove Arrivata l'altro ieri C'è anche il 288 Alla ruota nazionale Vedremo Se nel corso Di questa diretta Possiamo vedere Anche il 288 Attenzione Perché la figura nove È stata determinante In queste estrazioni Ma attenzione Perché proprio Questa condizione Del 1872 Conferma Ovviamente Un altro 90 Perché È chiaro Somma 90 Di figura nove 1872 Siamo a ruota unica Con un ambo secco Alla ruota Dell'otto di Cagliari Ma ancora A ruota unica Firenze Dalla 1278 Abbiamo un ambo Terno secco Sempre con il 90 E per oggi Estrazione Di giovedì 16 maggio Il 90 Sarà da valutare A Cagliari Con un solo Ambo secco Signori Veramente Alla portata di tutti È un ambo Di due numeri Solo per una ruota E allora Attenzione Perché diventa Importante Un ambo secco Lo potrete valutare Con un euro in più Non avrete confusione Cagliari 90 Con un abbinamento Per ambo E Firenze Un ambo E un terno Tra le altre cose Questo di Firenze Questo ambo secco Sono sicuro Che ve lo ricorderete Perché È stato un ambo Che abbiamo già vinto Diverse volte Addirittura Quattro volte Attenzione È un ambo Di figura nove E poi c'è quel bel terno Con il 90 Anche questo È veramente un classico Di Lio e di Marco Andiamo di là in redazione Grazie Molto bene Portale 895 095 Ripeto 895 095 Portale Super veloce Perché Avrete la possibilità Di avere un solo ambo Alla ruota Dell'otto di Cagliari Dalla somma 90 Di figura nove Questo 1872 Oltre averlo vinto A ruota Fa da condizione Perché è figura nove È una somma 90 E la conferma È quella Di un ambo secco Alla ruota Dell'otto di Cagliari Signori Dobbiamo fare attenzione Perché È importante Il 90 A Cagliari Perché C'è la somma 90 Ma perché c'è anche In prima posizione Il 77 Voi sapete cosa vuol dire 77 È un po' il precursore Del 90 Firenze 1278 Un ambo Con il 90 Attenzione Perché questo Ambo di due numeri È importantissimo E il terno È favoloso E allora L'895 095 Vi dà unicamente Due ambi E un terno secco Ma a ruota unica Quindi Un portale Straordinario Un portale Importante Un portale Veloce Che vi permetterà Di avere Il 90 Di quest'oggi In due ambi E un terno secco Via con le vostre chiamate È veramente importante Avere questa informazione Per il concorso Di quest'oggi Grazie a tutti What did I see, coming for to carry me home A band of angels coming after me, coming for to carry me home Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me home Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me home If you get to heaven before I do, coming for to carry me home Tell all my friends that I'm coming to, coming for to carry me home Swing love, sweet chariot, coming for to carry me home Swing love, sweet chariot, coming for to carry me home Sometimes I am up, sometimes I'm down Coming for to carry me home In my heart I am heaven bound, coming for to carry me home Swing love, sweet chariot, coming for to carry me home Swing love, sweet chariot, coming for to carry me home Swing love, sweet chariot, coming for to carry me home Swing love, sweet chariot, coming for to carry me home Con Marco vi ringraziamo per le numerose chiamate per quanto riguarda questa informazione così semplice, così ristretta alla portata di tutti Quindi Cagliari un ambo secco, Firenze un ambo e un terno Il 90 sarà sempre il protagonista Dobbiamo veramente fare attenzione all'ambo di Firenze perché questo ambo è di figura 9 Già lo abbiamo vinto per quattro volte quindi attenzione perché è importantissimo E poi c'è uno dei classici terni con il 90 Firenze, ruota unica, importante il portale Perciò io con Marco vi aspettiamo ancora per avere questa indicazione molto interessante Arianna Chi è che è nato a Roma il 16 maggio del 1951? Lui è Claudio Baglioni Da ragazzo si atteggia a poeta malinconico, occhiali neri, maglione nero, a collo alto, sguardo triste Gli amici lo soprannominano agonia Lui si appassiona alla chitarra e impara ad autodidatta le canzoni di De André Prende lezioni di pianoforte, nel 72 esce il suo primo album, Questo piccolo grande amore E inizia una folgorante carriera che culmina con l'album La vita adesso E strada facendo sono i suoi più clamorosi successi commerciali Altro che agonia Perché quando Claudio inizia a cantare, beh assolutamente risveglia i morti Io lo so bene, perché lo sento tutto il giorno in casa Immagino, immagino Beh, una carriera strabiliante per quanto riguarda questo autore, questo cantautore E chiaramente di canzoni belle ne ha fatte tantissime E ce le ricordiamo tutti e tutte quante Ne abbiamo citate semplicemente qualcuna Ma ce ne sono veramente tante Perché comunque si è sempre impegnato nel fare testi nuovi Nel fare canzoni nuove Ed è assolutamente bravissimo come cantante Come cantautore Ma è anche molto simpatico alla conduzione Sanremo Esattamente Di Sanremo In quanto in questi ultimi due anni è stato proprio lui a condurre Sanremo E devo dire, non mi è dispiaciuto affatto Il primo anno è stato fortissimo Il secondo anno, secondo me, un po' meno Ma comunque veramente molto bravo Perché è chiaro che ha saputo selezionare veramente il meglio della musica italiana È vero, è vero L'avevo per un momento rimosso Che l'abbiamo visto proprio sul palco In una chiave diversa Esatto Ma non da cantante ma da presentatore, conduttore La tua canzone preferita di Baglioni? Allora, io con i titoli non vado molto bene Però mi sembra che ce ne sia una che si chiama I tu Che mi piace molto Vabbè, poi questo piccolo grande amore È chiaro, è un classico È un grande classico Mi piace tantissimo Ecco, però e tu non mi stanco mai di sentirla Mi piace proprio tanto A me piace moltissimo Sabato pomeriggio Mi piace moltissimo Porta portese La vita è adesso Ecco, anche la vita è adesso Stupendo Poi c'è un'altra dolcissima Notte di Notte Notte di Notte Anche quella è stupenda Sono veramente tutte molto belle Bravo Ecco, infatti i titoli sono questi Che io non li so mai Sono un po' So le canzoni, le canticchio Ma ecco, i titoli invece tu sei Sempre preciso con una memoria pazzesca Quindi tanti auguri Auguri, augurissimi Claudio Auguroni Claudio Ciao, un saluto Ecco, tra poco invece parleremo Adesso andiamo di là Vedremo se ce la faremo Di cinema Perché sempre più persone non vanno al cinema E se ne stanno comode a casa a vedersi la tv Le varie serie con Netflix Eccetera eccetera In Svizzera In Svizzera hanno pensato ad un modo per attirare le persone Sentiremo qual è questo modo Noi ora andiamo in redazione perché ci sono delle nuove linee nell'ultimissimo minuto live Questo ultimissimo minuto live Signori, attenzione perché racchiude veramente il meglio per l'estrazione di quest'oggi Di questo giovedì 16 maggio Attenzione, ci saranno tre punti fondamentali Due ambi con il 90 Solo alla ruota nazionale che arrivano dalla 288 Prestigiosa, somma 90 Una ruota, due ambi Li potete chiaramente unire anche in amboterno secco Abbiamo il simmetrico e l'abbinamento di figura 9 Per il 9,90 Perché il 9,90 diventa un ambo importante Diventa un ambo base In quanto l'assenza del 9 conferma proprio questo ambo di due numeri Andiamo in redazione perché questo ultimissimo minuto live È un qualcosa di importante Aggiornato prima della diretta Perciò non lo troverete da nessun'altra parte Ma solo in questo portale E allora vi dico seguitemi, grazie Ottimo il portale 89 34 94 34 Ribadisco che questo è stato aggiornato prima della diretta Perciò non lo troverete da nessun'altra parte Ma il contenuto lo avrete solo in questo portale 1,50 euro al minuto da rete fissa 1,80 euro al minuto dai cellulari Signori è chiaro che quando avrete ascoltato Anche uno dei due ambi secchi alla ruota nazionale Perché magari oggi dite No Lio, io oggi posso giocare solo un ambo Bene, entrate e ascoltate il primo ambo con il 90 Solo alla ruota nazionale Chiudete la chiamata Già avrete risparmiato Allora nel totale avrete due ambi secchi Alla ruota nazionale con il 90 Solo per una ruota Quindi non avrete mezzo numero in più 90 ruota unica nazionale Due ambi secchi Terno simmetrico Attenzione al Genova Napoli Perché quel 29,59,89 Conferma il nuovo terno simmetrico Questa condizione, vedete, questo triangolo arancione Conferma il nuovo terno simmetrico E attenzione ad un abbinamento di figura 9 per il 9,90 Ecco, vedete che è proprio stringato e ristretto Ma voi potete scegliere l'informazione che più vi piace Dopo averla ascoltata chiuderete la chiamata E signori, attenzione perché entrando in questo portale Avrete il meglio per oggi, giovedì 16 maggio Perciò da questo momento, 89,34, 94,34 Tasto 3 Tango pulcherri ma mano Basio blanchissime dita Resto c'un corpo lontano Oh, dolce riverita Tango d'amore latino Brillante tango argentino Sangue qui pulsati in me Tango che muore in casche Tango un suave bacino Basio la mille di braccia Vengo c'un corpo vicino Oh, amare te Mi piace Oh, la la lai lai la lai Tango la tua mirabilia Stringo le coppie del seno Te miro dentro le ciglia D'estasi sul pleno Tango tua pelle rubente Piuto capilli di fuoco Piuto capilli di fuoco Mordo con punta di dente Tango suave bacino Tango suave bacino Basio la mille di braccia Vengo c'un corpo vicino Vengo c'un corpo vicino Direttamente per l'estrazione Di questo giovedì 16 maggio 2019 Attenzione perché Io ora vi faccio notare Questo meraviglioso triangolo Di figura 9 Di distanza 45 Alla ruota di Cagliari E alla ruota di Napoli Il 2772 Allora avete visto che rispetta Proprio i parametri Di distanza 45 Sia alla ruota di Cagliari Ma anche a Napoli Questo 2772 È importantissimo Non solo perché Lo abbiamo centrato Alla ruota dell'otto di Napoli Ma perché È un figura 9 Un ambo di figura 9 Di distanza 45 Ma vediamo adesso Marco Il 1872 Perché Questo 1872 Noi l'abbiamo vinto Al primo colpo di gioco L'altro ieri Marte di sera Ma perché Perché sabato sera Nell'estrazione di sabato Alla ruota di Cagliari E Napoli C'era il quadrato Di figura 9 A Cagliari 5427 E a Napoli 945 Isotopi E allora Quel quadrato Ha dato unicamente 1872 81 A Cagliari Ed è arrivato Proprio L'ambo 1872 Il triangolo Di distanza 45 Del 2772 Quello che abbiamo visto Prima nel quadro Estrazionale Attenzione perché Oggi vi permette Di avere In un'unica Chiamata Quindi Ancora una volta Pochi numeri I migliori In assoluto Vi permette Di avere Un ambo E un terno A Cagliari Napoli Ancora di figura 9 Ancora a Cagliari Napoli Condizione Imbattibile Quindi un solo Ambo Un solo Terno secco Cagliari Napoli E questa la dovete avere Tutti quanti Perché avete visto Com'è importante La figura 9 Ma soprattutto Come sappiamo Lavorare La figura 9 Per ricavare Un determinato Prodotto Come il 1872 Allora Nuovo Ambo Nuovo Terno A Cagliari Napoli Perché deve Ritornare La figura 9 Attenzione perché Io e Marco Confidiamo Proprio nel Terno secco E poi Attenzione perché C'è L'abbinamento Universale Un solo Abbinamento Per il 990 Attenzione E' un numero Importantissimo Di finale 9 Da costare una volta Al 9 E una volta Al 90 O potete anche Valutare unicamente Il Terno Aggiungendo al 990 Questo abbinamento 89 34 94 94 Ripeto 89 34 94 94 Tasto 3 Entrate Ed ascoltate Signori ma proprio così Con semplicità Con fiducia Questa nuova informazione Valida Quest'oggi Occhio alla figura 9 Ancora a Cagliari Napoli Perché è qualcosa Di determinante Per quest'oggi Via con le vostre Chiamate Chiamate Nel buio Lo schermo Si accende La luce La luce pian piano Rissale L'immagine Chiara Rissplende Inizia un programma Speciale Gli amici Si stringono Intorno Comincia Una nuova Canzone Lo schermo Si illumina E vibra E vibra Di nuova Emozione Quindici anni Bella età Un po' donna Un po' bambina Quindici anni Libertà E più giovane Di prima Inizia un programma In cui ieri Si mescola All'oggi A domani Si pensano Nuovi pensieri Si vedono Posti lontani Si mescola Il desiderio L'incanto La gioia E la stesa Si vive La vita Su serio In una Continua Sorpresa Quindici anni Bella età Un po' donna Un po' bambina Quindici anni Libertà E più giovane Di prima 15 anni Bella età Un po' donna Un po' bambina Quindici anni Libertà E più giovane Di prima 15 anni Bella età Un po' donna Un po' bambina 15 anni 15 anni Libertà E più giovane Di prima 15 anni Che bella età Un po' donna Un po' bambina 15 anni Libertà E più giovane Che bello è Parlare al mattino Con te E' bello Ogni giorno Di più Bambolino Dagli occhi Blu Il nome Tuo Oh no Io non dirò Così segreto Dai facciamo l'ultima notizia E poi ci dobbiamo salutare Cinema Parliamo appunto di questo bedroom Guarda un po' Il cinema è in crisi Come tutti sappiamo Molti preferiscono guardarsi le serie a casa Sul divano E in Svizzera Per controbattere la tendenza Lanciano i bedroom cinema La prima sala di questo tipo E' stata inaugurata pochi giorni fa Il 9 maggio Presenta 11 letti matrimoniali Dotati di poggiatesta regolabili Il costo però è di 49 franchi a biglietto Il letto ovviamente Per chi pensa subito all'igiene Viene cambiato e rifatto Per garantire il massimo dell'igiene E sono disponibili anche snack e bevande Quindi tutto di più Di tutto di più Tu stai sdraiato Come se fossi a casa tua Sì ma poi dopo rialzarti Per ritornare a casa ti passa la voglia Assolutamente sì L'importante è che non si addormenta Appunto in questi letti Cosa facile Cosa assolutamente facile Vedendo un film o vedendo la televisione Come capita spesso a casa 49 è un po' carino Però vabbè siamo in Svizzera Quindi può essere anche possibile Beh non so appunto quanto quest'idea Può essere assolutamente importante Non solo per la Svizzera Ma anche per quanto riguarda Il resto dell'Europa e del mondo Staremo a vedere Io assolutamente se voglio andare al cinema Mi voglio veramente gustare La classica visione di una pellicola Nel classico cinema Quindi con il classico sedile E la classica busta di popcorn Yes Buonissimo Corn e cinema Per me è il top Ci vediamo nel pomeriggio 14.30 Con il secondo appuntamento della giornata Ciao io A dopo Ciao ciao Ciao